Messaggio della Madonna di Meggiugorie di 2 febbraio 2014 a Miriana Cari figli, con materno amore desidero insegnarvi l'onestà, desidero che nel vostro operare come i miei apostoli siate corretti, decisi e soprattutto onesti. Desidero con la grazia di Dio siate aperti alla benedizione, desidero che col digiuno e la preghiera otteniate dal Padre Celeste, consapevolezza, naturalezza, santità del Divino. Sotto la protezione di mio figlio e la mia, sarete miei apostoli, coloro che sanno diffondere la parola di Dio a tutti coloro che non la conoscono. Sapete superare tutti gli ostacoli che troverete sulla strada. Figli miei, attraverso la benedizione la grazia di Dio scenderà su di voi e voi la potete conservare con il digiuno e la preghiera, con la purificazione e la riconciliazione. Avrete l'efficienza che chiedo da voi. Pregate per i vostri pastori affinché il raggio della grazia di Dio illumini la loro strada. Vi ringrazio. Grazie.